Il sindaco uscente Lucio Greco ha formalizzato con determina sindacale la presa di servizio del neo amministratore della Ghelas Guido Siragusa che già 15 giorni fa aveva ufficializzato l'accettazione dell'incarico. La sua nomina nel corso dell'assemblea della multiservizio indetta dal presidente del collegio sindacale in piena campagna elettorale ha già generato non poche polemiche anzitutto politiche ma oggi Siragusa dalla sua scrivania della sede della multiservizio ha voluto tagliare corto spiegando di non essere dentro nessun disegno politico così come invece hanno denunciato i candidati a sindaco dei palchi della campagna elettorale. Mi ha aiutato il fatto che io ho una discreta esperienza politica e quindi so e comprendo e capisco che quando si è in campagna elettorale alcune volte è necessario parlare ruota libera. Io non lo condivido però ci sono candidati che pensano che parlare ruota libera è utile per la loro campagna elettorale però penso che sia campagna elettorale perché un conto è la politica poi un conto dell'amministrazione della cosa pubblica che ha delle regole che valgono per tutti. Hai appena cominciato a lavorare per la Ghelas ci sono tante scadenze in prossimità ma hai considerato che la settimana prossima si elegge il nuovo sindaco ti senti saldo su questa poltrona? Il problema io ho accettato di fare l'amministratore della Ghelas sapendo e avendo bene consapevolezza che era un momento difficile perché il precedente sindaco aveva deciso, questo l'ho fatto un minuto prima della mia nomina da l'amministratore della Ghelas si dice sostituire il precedente e quindi ovviamente aveva la necessità di nominarne un altro. Ha scelto meglio, lo ringrazio e come ha detto lui io in quel momento ma ancora oggi mi trovo fuori dal lagone politico cioè io non ho assolutamente alcun interesse diciamo a fare campagna elettorale. Siragusa arriva alla testa di un'azienda che sul piano finanziario non teme cedimenti visto il lavoro fatto dai suoi predecessori ci sono carenze evidenti di organico e la nuova amministrazione comunale dovrà da subito affrontare il tema del contratto pluriennale per fare in modo che Ghelas esca dal turbinio delle proglie continue a partire intanto dall'approvazione del bilancio. È già stata convocata l'assemblea dei soci per il 27 per il 28 giugno ma non è solamente il bilancio a luglio scade il contratto di servizio ora senza il contratto la Ghelas si paralizza e poi la Ghelas da ora in poi dovrà fare conti con un cliente con l'unico cliente che ha che si trova in in una situazione economica particolare cioè direi in dissesto e con diciamo le nuove norme sul controllo analogo cambia tutto il rapporto che c'è tra partecipata e comune quindi le prospettive della Ghelas secondo me sono complicate però ciò non significa che non possiamo trasformare un momento complicato in un momento di rilancio. L'incarico di Siracusa è di durata triennale ma il manager guarda già al futuro. Secondo me la Ghelas non può fare a meno di gestire i servizi a domanda individuale come sono in tutte le città importanti cioè servire i servizi a domanda individuale significa avere un proprio bilancio e non dipendere dall'ente e questo converrebbe secondo me al comune e converrebbe alla Ghelas che si libererebbe diciamo da questo sistema che lo vede oggi dipendere da quelle che sono le difficoltà del socio unico. A far discutere è stata di certo la tempistica impressa dal sindaco greco che ha proceduto a nomine strategiche in prossimità delle elezioni. Il nuovo manager però come ha già spiegato è pronto a rapportarsi con chi entrerà a palazzo di città e a valutarne le eventuali decisioni. Ci sono delle regole, valgono per tutti, loro li conoscono meglio di me quindi un conto è quello che si dice in campagna elettorale, un conto poi quello che si fa, un minuto dopo la campagna elettorale.